Pronte a riprendere la mobilitazione contro il caro pedaggi e la mancata messa in sicurezza delle autostrade 24 e 25 già dal prossimo 11 febbraio, il giorno dopo le elezioni regionali. I sindaci abruzzesi e laziali del fronte del no all'aumento dei pedaggi autostradali continuano la loro battaglia per ora scegliendo la strada del silenzio per non cavalcare la campagna elettorale come spiega la portavoce del nutrito gruppo di primi cittadini, la sindaca di Carzoli, Velia Nazzarro. Ma la situazione è a un passo ancora una volta dal caos. Il 28 febbraio infatti scade il termine della sospensione degli aumenti scelta autonomamente da strada dei parchi alla fine di dicembre e non c'è traccia ancora del decreto annunciato sul suo sito dal ministro dei trasporti Danilo Toninelli il quale aveva promesso appunto un decreto che avrebbe sospeso gli aumenti fino a giugno 2019. Nulla di tutto ciò tuona alla sindaca di Carzoli del decreto non c'è traccia. Dunque se le cose resteranno immobili dal primo marzo gli utenti delle autostrade 24 e 25 dovranno tornare a pagare il 20% in più di pedaggi. Noi continuiamo la nostra azione di sensibilizzazione delle istituzioni statali e governative di Cianazzarro. Abbiamo scritto di nuovo a Toninelli, al presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ai presidenti delle commissioni trasporti e lavori pubblici ma sinora nessuna risposta. Se tutto resterà fermo dunque la promessa di una ripresa vigorosa delle proteste già all'indomani delle elezioni regionali del 10 febbraio.